Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia, siamo noi. La rete olistica Livorno, ROL, è nata proprio dalla spinta del quartiere Vimisa Iacobo, della spinta anche di questo movimento di cittadinanza attiva che crede molto nel mettersi in rete. Sapendo che ci sono tante realtà a Livorno di centri olistici, è nata l'esigenza, la volontà, l'aspirazione di creare rete. Abbiamo fatto un primo protocollo di intesa tra noi e poi il 14 febbraio del 2018 abbiamo formalizzato la nostra associazione. Abbiamo partecipato subito al bando del comune per entrare nelle scuole di Livorno. Abbiamo partecipato e la verità è stato molto gradito tanto da avere 140 classi aderenti al progetto dove sono state presentate 17 discipline diverse del mondo olistico. Io sono Rossi Roberta, insegno yoga presso l'associazione Porta d'Oro e insieme a tutte le altre associazioni della ROL abbiamo partecipato a questo progetto del CRED in benessere, scuola, città e appunto è stato molto gradito dalle docenti con nostra grande sorpresa e piacere e abbiamo insegnato tutte le nostre discipline olistiche nelle scuole, dalle materne fino alle superiori. E' andata benissimo perché i bambini di tutte le età, i ragazzi fino agli superiori hanno partecipato con entusiasmo graficamente. Noi siamo stati molto felici perché non ci aspettavamo subito un così riscontro, un grande riscontro da parte del mondo scolastico. Alla fine dei progetti di yoga con i bambini abbiamo fatto anche degli incontri con i genitori e questo mi ha permesso di vedere la partecipazione delle famiglie. Queste sono poi avvicinate, magari sono anche chieste informazioni e alcuni bambini magari poi sono venuti a partecipare alle lezioni perché anche la famiglia partecipando ha capito che è l'utilità di questo tipo di attività. Aspettavamo questo risultato, che intendiamo agire ulteriormente, soprattutto a favore dei giovani come abbiamo anche chiesto, rispetto alla possibilità di fargli vedere che esiste qualcos'altro dalle proiezioni di film, che so io, sull'alimentazione, sulle problematiche riguardo Madre Terra, l'inquinamento e quant'altro. Quindi cerchiamo di... cioè siamo molto carichi, ecco, cerchiamo di portare quella parolina in più quella... il nostro contributo a perché il mondo migliori veramente. È poco, noi ci diamo l'anima però siamo felici così. Ci crediamo. Ci crediamo molto. Ci piace molto l'idea di aver creato questa rete perché abbiamo compreso che solo mettendoci in rete e unendo le forze riusciamo a arrivare al benessere. La nostra finalità, come anche scoperto insieme ai tavoli partecipativi dei cittadini, è quello di creare poli di quartiere del benessere, della salute e di stili di vita sana e stiamo portando a mettere in rete tutto ciò che fa salute e benessere, come i medici di famiglia, i pediatri, i farmacisti, le palestre, i centri olistici, punti di luce che se collaborano secondo noi veramente abbiamo una svolta.